Sono molto felice di essere qui, non vedevo l'ora di arrivare, non vedo l'ora di conoscere la squadra, il mister, tutto lo staff e non vedo l'ora di giocare. Lo conoscono tutti, la storia del Valencia, un club storico, un club molto importante e davvero sono onorato di essere qui. Spero di portare più cose possibili, positive ovviamente, però voglio dare il massimo per aiutare la squadra, la società e i tifosi. Penso sia l'obiettivo della squadra, comunque noi vogliamo fare bene e cercare di vincere il più possibile. Sono un esempio e spero di fare bene come hanno fatto loro, quindi darò il massimo.